E invece anche in questa città conosce una percentuale assolutamente improponibile. E poi visto, un giorno a tutti, un solo invito, portate la gente a votare. Questo è il dato più importante che c'è, varia bisogno di gente che vada a votare. Se portiamo la gente a votare si vince e io ho la voglia di vincere, lo sapete, non partecipo per partecipare ma partecipo per... Il provvedimento che fa scalpore e che ha segnato la storia... Un regalo grandioso a Bari perché chiamo a Bari la limone grande. Noi per vedere Bari nuovamente grande... Un sindaco che non avessi pensato... Poi è stato scelto da Pinuccia. Ecco, quella costituità. Da Pinuccia? Grazie.